Ciao a tutte, per prima cosa vi chiedo scusa per la pessima luce ma è sera e devo mandare il pacco domattina quindi non faccio in tempo a farlo in altri momenti. Vi faccio vedere che cosa mando nello swap a Stefania, non c'è su Youtube ma su Facebook penso sia Steffi fra Kawaii. Allora, ne mando gli sticker con i cagnolini. Questa Geisha Mi ha detto che le piacciono molto queste cagnolatrici quindi gliene mando una. Le mando questi notebook, come si chiamano, memopad, non ho mai capito le differenze. Poi anche a lei piacciono molto gli squishy quindi le mando questo. Le mando questo portachiavi a libriccino con la pecora. Questi decotape simili a quelli che avevo già mandato a... non mi ricordo a chi. Poi questi stampini per dolci o fimo o quel che sia. i glitter verdi, la viro di Minnie e infine questo. E ora vi faccio vedere cosa manderà. Questo è il suo pacchetto, bello grosso. Adesso vediamo un po'. Allora... Ciao Erika, eccoci al nostro primo swap insieme. Spero che ti piaccia tutto, anche perché ho preso tutto con cura e attenzione nella speranza di farti contenta. Guardo sempre tutti i tuoi video e sei davvero brava e simpaticissima. Spero che possiamo fare altri swap insieme. Un grande bacio a presto Stefania. Che carina. E ci ha messo tanti belli sticker. Allora... Qui ha coperto tutto con una carta da regalo molto carina. Allora... Uh, quanti bei pacchettini, guardate qua. Allora, adesso piano piano li apro. Vediamo un po'. Uh, perline! Queste sono sempre utili. Grazie. Poi vediamo un po'. Che bella carta da regalo. Oh, che carino! Dai che ce la faccio. Una torta... Capisci, che bella! Che bellina le salate. Ah, che carina! Grazie! Che bella! Uh, allora, allora. Poi. Oddio, che carino! È uno specchietto! Che dolce! Uh, che bello! Mi piace, mi piace. Oh, ma che carino! Oddio, è bellissimo! Grazie! Oh, guardate che piccolo! Oddio! È bellissima! Un phone strap fatto da lei! Sì, una ciambellina orsacchiotto! Ma che carino! Grazie, è bellino! Però è davvero bellino! Uh, come faccio ad aprirla? Oh, mini squishy! Che carino! Oh, è morbidissimo! Che carino! Grazie mille! Chi guarda i miei video può immaginare, chissà come, che amo gli squishy! Oh, che carino! Mmm, profuma! Poi, uh, questo è enorme! No, ma che figata! È bellissimo! È un portapenne fatto con un... Una scimietta, credo! Un peluche a scimietta! Che carino! Oh, grazie! Che dolce! Adesso qua, devo buttargli un po' di carte perché non ci sta più niente! Ok, poi... Non ci riesco! No, ma che carina! Una birra! Una birra moccata! Guardate che carina! Haha, che dolce! Grazie! Poi, un altro pacchettino grande! Oh, che carino! È un salvadonaio con il lucchetto! Che dolce! È di metallo, ma che carino! Sembra un armadietto di quelli da scuola! Che carino! No, ma che figata! Grazie! No, qua copro la luce! Ok. Poi... Ah, che belle! Le mollettine con gli orsetti! Che carine! Grazie! Oh, sono carinissime! Come funziona qui! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Sono bellissimi! I stickers di Rilakkuma! Che belli che sono! Grazie! Oh, sono bellissimi! Grazie, 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 grazie! Cerchiamo di mettere tutto qui! Ok. Poi... Uh, questo è grosso! Che cos'è un... Un... Non lo so! Allora, facciamo che lo apro! Dunque... Ah! È un quadernino! Che carino! Che bello! Guarda che carino! Con la... Farfallina in rilievo! Che carino, grazie! Ehi, che carina! No! Guardate che bella questa borsa! Oh, è bellissima! Oh, che carina! Ok, questo era tutto! Oh, che cose carine! Grazie mille! Mi piace tutto! E nulla, io spero che quello che ti ho mandato io ti piaccia! Ti ringrazio davvero tanto, Stefania! E ti mando un bacio! Ciao, ciao a tutti!